Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse «Effatà, cioè apriti!» E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano «Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti». Parola del Signore. Nel Vangelo di oggi Marco ci racconta l'incontro di Gesù con il sordo muto. Non è proprio soltanto uno dei tanti miracoli. Viene considerato talmente importante questo incontro che la parola che ci riporta Marco, la parola aramaica, che dice Gesù è «Fatà», che vuol dire «apriti», è entrata addirittura nel rito del battesimo. Nel rito del battesimo, alla fine, verso la fine del rito, il sacerdote o il diacono, insomma, il ministro del battesimo tocca le orecchie e la bocca del battezzato, del bambino di solito, e dice «Il Signore ti concede di ascoltare presto la sua parola e di rivolgerti a Lui nell'assemblea, nella preghiera». Gli tocca le orecchie e la bocca, proprio come ha fatto Gesù. E si chiama proprio il rito dell'effatà. «Apriti», abbiamo bisogno che il Signore, usando un'espressione un po' più grezza, ci sturi le orecchie. Abbiamo bisogno che il Signore ci apra i sensi spirituali, non basta sentire con i nostri timpani, bisogna sentire con il cuore, bisogna ascoltare, perché siamo tutti un po' sordi. Tutti sappiamo quanto è difficile ascoltare e quanto oggi, in questa profluvia, in questo oceano di parole in cui siamo immersi, sia difficile dire parole significative. Siamo tutti un po' sordi e un po' muti, ci dice Marco. Abbiamo bisogno che Gesù ci tocchi le orecchie e la bocca e ci tocchi il cuore, per imparare ad ascoltare. In realtà l'ascolto è il primo comandamento della Bibbia, il primo. Prima del decalogo la Bibbia dice «Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio», «Schemà Israele», la preghiera che gli ebrei recitano tre volte al giorno, gli ebrei osservanti, «Ascolta Israele», perché prima di tutto, prima di osservare la legge, prima di fare qualunque altra cosa, l'atteggiamento del cuore più importante è l'ascolto. E questo è vero anche verso i nostri fratelli e sorelle. Com'è difficile ascoltare. Lo scrittore Flaiano diceva che un buon ascoltatore di solito sta pensando a qualcos'altro. A chi non è capitato, magari una persona che ti parla, ti parla, e tu veramente pensi a qualcos'altro. Perché ascoltare in maniera profonda vuol dire fare spazio all'altro, vuol dire mettere da parte le proprie preoccupazioni, i propri pensieri, per fare spazio. L'ascolto profondo è veramente difficile. Chiediamo al Signore in questa domenica che davvero ci apra le orecchie per ascoltare fino in fondo la sua parola, no? Lo dice il Vangelo, beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. L'ascolto profondo porta all'obbedienza, che infatti vuol dire ob-audire. La parola obbedire vuol dire a causa dell'udire, a causa dell'ascolto. La vera obbedienza si fa quando hai ascoltato veramente Dio e il fratello. E poi porta alla lode. Gesù dice, come sempre nel Vangelo, non lo dire a nessuno, dice al guarito, ma egli più lo proibiva e più proclamavano, pieni di stupore. Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Ecco, chiediamo al Signore che faccia udire anche noi e ci faccia proclamare le sue grandi opere, le opere che Lui continua a fare nella nostra vita e che spesso noi non vediamo, non sentiamo e non raccontiamo. La parola obbedienza La parola obbedienza La parola obbedienza Grazie.